ciao ragazzi eccoci qua video per le scarpe da bambino oggi parliamo perché prenderla coi lacci o prenderla senza lacci partiamo dal presupposto che le scarpe da bambino hanno calzate differenti rispetto l'adulto quindi non hanno tutte le tecnologie tutto il discorso di calzata differente dai diversi silo nel bambino comunque si cerca di dare delle calzate più che prendono più bambini possibili quindi di essere più medio larghe con calzata con più collo alto possibile e le microfibre sono comunque molto morbide qua abbiamo preso due modelli che piacciono molto ai bambini per il discorso della calzata in questo caso abbiamo king nella versione tutta sintetica pianta come vedete molto molto larga che si adatta subito ed avendo i lacci ha un'apertura e una facilità di calzata estrema poi invece andiamo più sul moderno con una ultra per chi vuole una scarpa senza lacci che mantiene sempre il discorso della calzata come vedete pianta larghissima la scarpa se uno ha la pianta larga si adatta subito ma allo stesso tempo è senza lacci quindi se non si vuole star lì a allacciarla negli spogliatoi ma metterla subito come potete vedere anche l'elastico si alza tantissimo quindi la facilità di allargare fare entrare il collo è estremo